Buongiorno a tutti, ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV, questa è la rassegna stampa sul canale 17, ben ritrovati. E allora siamo qui per leggere i giornali, oggi c'è tanto sport, ci sono anche tanti bei risultati come per esempio la vittoria nel campionato di pallavolo della Lube che dunque vince il campionato ed è campione d'Italia, c'è la Colle Marathon con più di mille atleti che hanno percorso le vie della nostra provincia, della nostra vallata, tanta gente, un tripudio. Il Fano che vince, il Fano che vince e dunque torna a sperare, si gioca tutto con il Forlì. Questo è d'altro nella rassegna che andremo a leggere tra poco, il Santo che poi oggi non è un Santo ma è una ricorrenza, quella della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei. Il sole è sorto alle 5.51, tramonterà alle 20.18, vediamo invece adesso il tempo, anche oggi il tempo, insomma è così così, cambierà nel corso del pomeriggio. Vedete con la pioggia che dall'entroterra si sposterà verso la costa, continuerà a piovere anche durante la notte. Questa è la giornata di domani, martedì 9 maggio, mattinata, pomeriggio, vedete migliora un po' soltanto sulla provincia pesarese. Poi mercoledì, mercoledì che finalmente torna il bel tempo. Allora dicevamo del risultato eccezionale, incredibile della Lube che dunque vince lo Scudetto. Civitanova nell'albo d'oro del campionato di volley, è il quarto titolo per il club cuciniero. La Diatec Trento si arrende anche in gara 3. Coach Blengini ai saluti, perché poi si dedicherà soltanto alla Nazionale di Pallavoro, al suo posto arriverà Medei. Tra l'altro ieri la squadra di Blengini si era giocata con la squadra di Trento, guidata dal tecnico fanese Angelo Lorenzetti. Andiamo nelle pagine interne del Corriere Adriatico, un trionfo da Marziani anche nell'ultima sfida con una indomabile Trento. La Lube ha confermato la sua netta superiorità. Grandi dice peccato andare via, Blengini saluta, tocca a Medei, due anni meravigliosi, anche quello passato senza vittorie. Lasciare adesso un po', dice lui, l'allenatore, è lui eh, l'allenatore dice mi dispiace. Chi sarà quello che prenderà il suo posto? Eccolo qua, di fianco, qui di spalle, nuovo allenatore Gianpaolo Medei, nato a Treia, quindi un marchigiano, 43 anni fa. E quest'anno ha allenato una squadra francese, però dal 2016 è anche assistente di Blengini sulla panchina della Nazionale Azzurra. Il Corriere, il resto del Carlino invece scrive Lube Scudetto e qui la festa, un titolo nel segno di Blengini che ora si occuperà solo della Nazionale. L'allenatore ha confermato di essere un predestinato, ha guidato senza esitazioni e sapendo ascoltare un gruppo dato per favorito. Fano, il Fano che vince, dicevamo ieri in casa contro la squadra del Bassano, il risultato 2 a 1, gioia e adesso i Granata si giocano tutto contro la squadra del Forlì. Decisivo Fioretti con un gran tiro nel finale che ha sorpreso Bastianoni e l'Ancona vincente ha dato un'occasione in più al Fano. La Maratona, la Colle Marathon che ieri ha riempito anche gli hotel tra Barchi e Fano, un flusso di almeno 3.000 persone, la grande partecipazione ha garantito 750 presenze negli alberghi. Poi però c'è anche, e questo lo evidenzia il Carlino nella pagina di oggi, il lato un po' più scuro, nel senso che tutta questa gente ha corso, sì, ma in un paesaggio straordinario, ma su strade piene di buche. E tant'è che questa cosa è stata stigmatizzata non dal presidente, che ne so, magari di un comitato, il parroco di San Costanzo e Cerasa, Don Stefano Maltempi, che ha fisso questi cartelli, i cartelli di protesta contro le buche lungo la strada provinciale 16, e però questi cartelli, a un certo punto questi manifestini sono stati rimossi, sembra che a sollecitare questa rimozione sia stato addirittura l'intervento dei carabinieri. E sul Corea Adriatico invece ecco la Colle Marathon con tanto di fotografie e con tanto di podio, perché è un podio, dobbiamo dire, anche al di là del colore, del folklore, di tutto ciò che è sempre bello vedere nella maratona della Colle Marathon, però chi ha vinto, chi ha faticato, chi ha corso per tutte quelle ore, due ore e passa, quasi tre ore. Insomma, il podio è africano, ha vinto un marocchino, Tariq Bamarouf, il primo italiano, arrivato quinto, invece è il pesarese tornati. E tra questi, tra questi 1074 corridori alla partenza, c'era anche il sindaco di Fano, Massimo Seri, che ha detto, insomma, è stata per la città di Fano una grande promozione. La prima pagina invece del Corriere Adriatico riparte il forno della Pica. L'azienda passa ai francesi dopo il sacrificio di 85 dipendenti che sono stati licenziati, salvati i rimanenti 73, ora l'affitto, poi l'acquisto. E questa è la notizia in primo piano sul Corriere, l'edizione pesarese. Sul Carlino invece il pianeta sanità, in primo piano la clinica privata che potrebbe sorgere nel quartiere di Tre Ponti. Il sindaco Seri si dice possibilista, il primo cittadino di Fano non scarta dunque questa ipotesi. Dall'opposizione invece arriva una valanga di critiche, compreso il sindacato Simona Ricci della CGL, che è il segretario provinciale, appunto, è fortemente critica sull'operazione della sanità privata. Ma in linea di principio Massimo Seri, il sindaco di Fano, dice qualsiasi investimento economico su Fano da parte di soggetti privati non può che farci piacere, porterebbe ricchezza e lavoro. Se poi dovesse avvenire nel campo della sanità con la realizzazione di una clinica privata a Chiaruccia, come ha scritto giustamente il Carlino qualche giorno fa, tale scelta non fa che confermare la bontà del sito che avevo indicato. Ricci, qui siamo alla politica, il sindaco di Pesaro, Ricci in segreteria, ma punta al governo. Il congresso del PD, nominata la direzione nazionale con Ricci, Geriscioli, Morani e il 19enne Vichi, il ritorno delle correnti potrebbe influire sull'operazione di un marchigiano a Roma. Se il Partito Democratico regionale vuole un rappresentante nell'esecutivo, deve puntare sul sindaco di Pesaro Ricci. Però c'è un dubbio che evidenzia anche il quotidiano questa mattina, il dubbio è quello delle amministrative, perché come sapete l'11 di giugno si vota in 25 comuni capoluogo e questo viene visto un po' come un test vero per Matteo Renzi. La cronaca investe ciclista 92enne e poi fugge. Vigile a caccia di una Renault Clio, la nonnina travolta alla rotatoria di via Giolitti a Pesaro. È successo ieri intorno al 19, appunto alla rotatoria di via Giolitti, una Renault Clio ha autato e gettato a terra una pensionata di 92 anni che stava tornando a casa in bicicletta dopo aver passato il pomeriggio a casa di amici a giocare a tombola. Mentre qui vedete di fianco l'altra notizia, il Tribunale di Pesaro attende il nuovo procuratore, si tratta di Cristina Tedeschini che arriva da Pescara, dove tra l'altro ha seguito l'inchiesta sul disastro di Rigopiano, l'albergo che come ormai è tristamente ricordato e noto è finito sotto una valanga di neve con tanti morti. Però il procuratore ha già tracciato le principali linee investigative, dunque dovrebbe lasciare tutto quanto e arrivare giovedì 11 maggio nella sua nuova sede che è appunto il Tribunale di Pesaro. Andiamo avanti con la rassegna, andiamo sul, torniamo sul, facciamo un po' ping pong tra Carlino e Corriere. Qui siamo sul Corriere, Confesercenti, Confesercenti che rinnova le sue cariche provinciali, Bacchetta però Pesaro e Fano, critiche a commercio urbanistica, nel Mirino finisce anche Urbino, cambio ai vertici. Allora Pier Stefano Fiorelli è il nuovo presidente provinciale, mentre Giorgio Bartolini è il nuovo direttore provinciale. Qui vedete alcune fotografie in posa dei dirigenti con le cariche rinnovate. La pagina di Fano, sotto la pioggia, via Garibaldi si vota alle arti e all'accoglienza. Il maltempo non ferma l'animazione nella ristrutturata strada cosiddetta dei ciliegi. Ma che sono ciliegi, sì, vero, bellissimi, però non sono i ciliegi, sono ciliegi giapponesi. Ragazzina scappa dal canto di Montevecchio, invece sotto, 15enne raffidata alla comunità per minori, l'appello della madre che abita a Macerata e lancia quest'appello alla figlia, insomma, di ripensarci, di tornare. Urbino, Movida, scontro continuo. Oggi c'è l'assemblea per trovare una mediazione tra i sindaco e gli studenti dell'Università di Urbino, che sono ormai ai ferri corti. Questo è chiaro, le premesse non sono delle migliori. Il sindaco dice io e il comune decidiamo il luogo dove fare questo incontro. Gli studenti invece ribadiscono. No, l'incontro lo teniamo, questo incontro lo teniamo in piazza. Dunque, l'oggetto del contendere qual è? L'ordinanza di chiusura dei locali del centro storico della città ducale. Quindi il sindaco dice, spinge per l'1,5, vorrebbe l'1,5, anche per evitare che gli schiamazzi e quant'altro, insomma, andassero avanti oltre. Gli altri invece vorrebbero alle 2,30. Dalla Valle del Cesano invece, guardate questa fotografia, questa bici giardino di Michele Lucarelli e le ragazze dell'Istituto Olivetti di Fano. Una bella invenzione, la crescia sfoglia in Danimarca con l'orto cucina sulla bicicletta. Una originale iniziativa di una san costanzese con l'aiuto delle studentesse della scuola fanese dell'Olivetti. Da Senigallia invece, per rifare i ponti in città, la regione ora accelera. La mappa delle priorità nel documento approvato dall'autorità di Bacino. Poi sotto, scappa da casa a 17 anni, ritrovato alla stazione di Senigallia. L'ultima pagina di Iesi, dove il paglio di San Floriano torna al comune. Gran finale con 500 figuranti che sfilano per le vie del centro e sfidano la pioggia. Noi ci fermiamo qui per quanto riguarda la lettura dei giornali. Vi ricordo il 338 4968 250 per le vostre segnalazioni. Potete inviarci foto, video, testi anche attraverso WhatsApp. Noi ci vediamo invece questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. A voi tutti l'auguro di una buona giornata.